www.mariziopoli.it, oggi voglio parlarvi dell'ennesima criptovaluta, criptomoneta, c'entra c'entra c'è anche un documentario su Netflix Italia che si chiama BitConnet, dove vi riporto qui il link dell'articolo che parla di questa simpatica storia di questa criptomoneta che era tutto falso dal presidente che avevano preso direttamente da Google un'immagine di un anziano per dare valore a questa criptomoneta che serviva di spendere nel mondo reale questo progetto in dollari e in euro anche con come fosse una carta di credito, con addirittura il logo Visa, la Visa purtroppo non sapeva niente di questa cosa qui, riporto qui tutta questa simpatica storia, avevano raccolto quasi 30 milioni di dollari e dopo 7 anni gli investitori non hanno ancora visto niente in restituzione, quindi non andate dietro alle mode, bisogna stare attenti alle mode, conoscere per decidere, quindi se volete conoscere e fare investimenti nel mondo delle criptovalute bisogna farlo con granul salis, conoscere e poi dopo valutare quali strumenti e con chi poter poi fare questi investimenti di una parte nel proprio patrimonio non mettere tutte le uova nello stesso paniere e non pensare di diventare ricco investendo 1000 euro pensando di diventare ricco, dopo un mese magari guadagnano le 30 mila, non è proprio così che funziona questo mondo, quindi una buona lettura di questa ennesima criptomoneta, c'entra e poi guardatevi pure su Netflix il documentario che parla, si chiama BitConnect, che parla proprio di questa bellissima criptomoneta di cui non esisteva nulla, il potere della comunicazione, attenti al gatto la volpe, alla prossima!